ciao ragazzi sono riccardo bentornati nel mio canale youtube oggi voglio farvi vedere questo inverter della vevor questo serve a trasformare la corrente continua in corrente alternata 230 volte 50 60 hertz con onda sinusoidale pura e ci permette di utilizzare appunto questo tipo di corrente dove non lo abbiamo basta avere semplicemente una batteria collegare i cavetti e avere quella corrente che può alimentare tutto quello che ci serve entro certi limiti ma tutto quello che ci serve perché l'onda sinusoidale pura ci permette di alimentare di caricare tutti quei dispositivi che hanno bisogno di una corrente pulita altrimenti si potrebbero danneggiare vi lascerò il link nel primo commento nella descrizione il prodotto è quello che vedete nel riquadro alla mia destra quindi se vi interessa se riesco a ottenere un codice di sconto andate a dare un'occhiata ed acquistatelo perché questo va a sostituire l'utilizzo in parte delle power station e di tutte quelle possibilità di trasportare la corrente alternata ma molto più leggero se abbiamo già una zona dove abbiamo la corrente continua oppure vogliamo collegarla la batteria dei nostri mezzi possiamo farlo con facilità ora però mettiamolo sul bancone ve lo faccio vedere e poi metterò delle riprese in cui testiamo l'onda sinusoidale pura e mettiamo un carico di 2500 watt per vedere se riesce a reggerli ora cominciamo e allora guardiamo il prodotto non vi faccio vedere la scatola perché semplicemente un cartone delle dimensioni leggermente più grande di questo inverter con del polistirolo allora all'interno troviamo questi cavi che possono andare bene però sarebbe meglio se fossero un pochettino più grossi un pochettino più spessi dotati di occhiello sia per collegarlo ai morsetti nella parte posteriore che per collegarlo ad una batteria da questa parte invece abbiamo dei fusibili di ricambio è un telecomando che io nemmeno utilizzato è questa invece il piccolo manuale di istruzioni in cui ripete onda sinusoidale pura con tutte le varie istruzioni le spiegazioni eccetera eccetera ovviamente non farò un tutorial pure perché non sono in grado di fare un vero e proprio tutorial ma vi parlerò di questo prodotto spiegandovi quali sono i comandi facendo vedere le riprese che ho già realizzato partiamo dalla parte posteriore dove troviamo le ventole di raffreddamento e le connessioni possiamo inserire sia dei morsetti ad occhiello oppure quelli a forchetta e da questa parte abbiamo le informazioni ripete onda sinusoidale pura 2500 watt 12 24 oppure 48 volte questa è la presa asciugo con la quale alimenteremo i vari dispositivi un piccolo display tastino di accensione spegnimento e questo invece serve per poter ricaricare con la presa usb alcuni dispositivi più la messa a terra e qua abbiamo pure queste alette per la dispersione del calore quindi per dissipare meglio ed evitare che si surriscaldi in realtà non si surriscalda nemmeno tantissimo ho fatto la prova utilizzandolo con 2500 watt ho fatto delle riprese pure con una termocamera si è mantenuto attorno ai 40 gradi 50 gradi circa una temperatura normale allora guardiamo le riprese vediamo per esempio il display nel quale troviamo in alto sulla sinistra la tensione della batteria che abbiamo deciso di utilizzare man mano ovviamente che si abbasserà questa tensione l'inverter smetterà di funzionare quando non sarà più in grado di ricevere l'alimentazione corretta abbiamo anche l'informazione sul consumo e tutte le varie informazioni che riguardano la corrente d'entrata e corrente in uscita durante le prove che vedete in questa ripresa stavo utilizzando una batteria da 12 volt 200 ampere che tra l'altro vi ho già recensito e per la quale vi lascio il link nel primo commento e nella descrizione in modo eventualmente se volete utilizzarla con questo tipo di batterie possiate acquistarle ma potete utilizzarle ripeto con qualunque batteria che sia il piombo che più 4 eccetera importante che rientri tra i 12 e 48 volt e ovviamente che abbia anche una capacità abbondante perché comunque un inverter adatto per delle prestazioni generose e quindi una batteria molto piccola non riuscirebbe a farlo lavorare correttamente ma comunque sia durante quelle prove ho raggiunto diversi step di potenza l'inverter è andato bene per tutte le varie prove con diversi step di potenza fino ad arrivare appunto a 2500 watt per i quali non ha dato alcun segno di difficoltà è riuscito ad alimentare tranquillamente più di un dispositivo dispositivo energivori che non avevano un picco particolare però comunque assorbivano parecchio e l'inverter è riuscito ad alimentarli senza dare segni di difficoltà mostrandomi nel display anche la tensione della batteria che si abbassava fino a quando poi effettivamente la batteria si è scaricata e l'inverter ha smesso di funzionare ovviamente questo tipo di inverter si può utilizzare in barca in camper in una casetta di campagna è possibile sia posizionarlo su un piano io durante l'utilizzo preferito mettere degli spessori per evitare eventualmente che il calore non si potesse dissipare correttamente ma è possibile fissarla senza nessun problema grazie a queste sacomature con due viti sulla destra e due viti sulla sinistra per esempio su una struttura lo stesso inverter durante l'utilizzo comunque rimane silenzioso c'è solamente un po di rumore per quanto riguarda la ventola nella parte posteriore e grazie alla sua capacità quindi 2.500 watt ci permette anche di utilizzare per esempio asciugacapelli o perché no anche qualche attrezzatura per il fai da te nel caso in cui sia necessario perché è molto potente quindi riesce ad alimentare praticamente il 90 per cento di tutto ciò che si può alimentare in casa considerate che il contatore di casa fornisce in media 3 kilowatt quindi siamo a 2.500 watt 2 kilowatt e mezzo non essendo destinato ad alimentare ovviamente un'abitazione avendo una sola pesa asciuga vi consiglio utilizzare un solo dispositivo per volta o eventualmente se non sono dispositivi particolarmente energivori mettere una ciabatta ma evitate sovraccaricarlo e allora andiamo sul sito della vevor quindi dove potete acquistarlo e link che vi lascerò ma spero di lasciarvi anche un link eventualmente di amazon abbiamo diverse immagini e qualche altra informazione per esempio parliamo anche della sicurezza vi ho accennato che è protetto contro i cortocircuiti ma è protetto con diversi tipi di protezione quindi anche l'inversione di polarità cortocircuito basso voltaggio over voltaggio quindi un sovraccarico e anche per quanto riguarda la temperatura tra l'altro è un sistema intelligente che avvia automaticamente l'attivazione delle ventole andiamo più in basso troviamo qualche altra informazione più qualche immagine che ci fa capire l'utilizzo quindi la destinazione di uso di questo dispositivo come vi dicevo in campeggio in camper baita eccetera corpo completamente in robusta lega di alluminio l'utilizzo del telecomando l'onda sinusoidale pura che può andare bene come vi dicevo per tutte quelle strumentazioni che si utilizzano negli uffici al lavoro ma anche elettromedicali computer insomma tutti quelli che hanno bisogno di onda sinusoidale pura come vedete abbiamo l'onda sinusoidale pura se io adesso lo spengo ovviamente diventa piatto accendendolo abbiamo l'onda sinusoidale pura quindi dice la verità come per esempio non è a bisogno un trapano con quello potete utilizzare un qualunque generatore senza nessun problema e qua abbiamo le caratteristiche tecniche quindi il modello gis 2500 che lavora con tensione di ingresso minimo 12 volt l'uscita più o meno 230 volte va benissimo con 50 hertz per quanto riguarda la frequenza il picco 5000 watt quindi 5 kilowatt e questa è una cosa buona che però non ho avuto modo di testare la presa usb dei 5 volt 2,1 ampere quindi non è velocissima però può far ricaricare tranquillamente tutti i nostri dispositivi con un po di pazienza però riusciamo a farlo e qua invece abbiamo domande e risposte quindi qualcuno chiede se si può alimentare un condizionatore al 1300 watt rispondono di sì è una piastra elettrica abbiamo anche delle recensioni quindi ce ne sono 4 per cento con una stella il 18 per cento con quattro stelle 79 per cento invece con cinque stelle e questo ci deve far riflettere si deve far capire con dispositivo che effettivamente funziona bene perché vapor come amazon non cancella le recensioni negative altrimenti avrebbe rimosso pure queste mi capita su alcuni prodotti in vendita di trovare tante stelle con recensione negativa che non sono state rimosse quindi sono affidabili questo è possibile utilizzarla con i pannelli solari creando quindi un impianto che riesca dal caricare le batterie e poi a sua volta che alimenti il nostro inverter oppure si può utilizzare anche tenendolo nel porta bagagli del nostro veicolo e poi in caso di necessità collegarlo quindi se ne ho bisogno di utilizzare un asciugacapelli ricordatevi che potete utilizzarlo ma mantenete il motore del veicolo acceso altrimenti rischiate di buttare a terra la batteria oppure fornitevi di una batteria extra come quella che vi ho fatto vedere io per poterlo alimentare senza andare a gravare sulla batteria del vostro veicolo perché altrimenti avrete capelli asciutti ma poi dovrete andarvene a piedi detto questo ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto vi abbia tenuto compagnia vi abbia fatto conoscere un prodotto che magari potrebbe servirvi per diversi scopi magari corrisponde a un prodotto che cercavate eravate indecisi e con questo vi siete decisi perché potrebbe fare a caso vostro mi raccomando iscrivetevi al canale mettete mi piace a questo video cliccate nel link che trovate giù nel primo commento della descrizione perché potrebbe esserci anche un codice di sconto e ci vediamo a tutti i prossimi caricamenti ciao da riccardo ea presto